Palla lunga su Nizar, la difesa in laterale, ancora la palla data in centro per Nizar, Nizar lotta, Nizar fascia a destra, parte un cross, goll, autogoll del difensore, bravo, bravo Nizar, bravo, cross dalla sinistra, dalla destra, Nizar, e il difensore mette il piede, 1-1, e vai, vai, bravo Nizar, che ci ha creduto, 1-1, posso dire, merita, quarantesimo.